I film sono sogni che non dimenticherai mai. Che genere di film faremo? Oh, tu li ami tanto, eh? Due sorelle, mamma, papà. Ma credimi, questo lo amerei molto di più. In questa famiglia ci sono gli scienziati contro gli artisti. Sammy è nella mia squadra, preso da me. Tu liquidi quello che fa come un gioco o una fantasia. Amare qualcosa non basta, te ne devi anche prendere cura. È più importante del tuo hobby. La smetti di chiamarlo hobby? Tua madre avrebbe dovuto fare la pianista classica. Quello che lei ha nel cuore ce l'hai anche tu. Ti devi sempre mettere al centro dell'attenzione. Adesso basta urlarle contro. Tu non hai fatto altro che mancarmi di rispetto. Io sono tua madre. Famiglia, arte, rani. Ti strapperai in due. Se smetti di fare film, spezzerai il cuore a tua madre. Io non so più cosa devo fare. Avviene tutto per un motivo. Qual è stata la tua parte preferita? Grazie. 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 Grazie.